Passiamo alla moda e al glamour, parliamo di The Look of the Year Italia, del concorso, abbiamo già realizzato un servizio nei giorni scorsi e poi ne vedremo le immagini e intanto abbiamo ospite il direttore artistico che è Roberto Guarducci, grazie per essere qui con noi, che ha un curriculum nel campo della moda che fa quasi soggezione perché è stato stilista per la Maison Fendi per 20 anni e dunque parliamo del top, del lusso. Sì, insomma ho frequentato diciamo molte case di moda sin dai primi anni 80 e vediamo che ho acquisito una certa esperienza nel settore e adesso diciamo mi sto dedicando anche un po' agli eventi moda nei quali vengo appunto coinvolto. Dunque, lei già precedentemente aveva sperimentato però le sue capacità creative come consulente presso altre aziende, lei l'ha detto perché io ho parlato di Fendi ma c'è anche Luciano Soprani e poi c'è appunto l'approdo da Fendi, lei ha conosciuto anche quella che è una vera icona, una leggenda della moda che è Karl Hagerfeld. Sì, io diciamo ho lavorato con lui per anni nella Maison Fendi ovviamente, sono sempre stato alle prove, l'ho sempre aiutato in questo settore così difficile e quindi sì sicuramente lui è comunque un genio della moda nella maniera più assoluta. C'è qualche aneddoto che ci può raccontare? Ma io credo che lui sia una persona un po' sui generis perché è veramente una star assolutamente importante e assolutamente unica nel suo genere, lui vive per la moda e il suo obiettivo è quello di creare sempre qualcosa di moda importante, nuovo, innovativo e penso che ci riesca sempre molto bene perché poi diciamo in qualche modo... Nonostante non sia più un ragazzino diciamolo no? Sì, sì, in effetti sì perché penso che abbia quasi 80 anni quindi vabbè però lui ha detto che finché viverà continuerà il suo lavoro quindi non rinuncerà la sua missione assolutamente. Di educare al bello poi sostanzialmente. Assolutamente sì. E questo mi dà la possibilità di estendere appunto a lei questa competenza visto che poi lei è diventato ed è attualmente docente di fashion design all'Accademia delle Belle Arti di Bari. Lei ha origini pugliesi? No, io ho origini toscane, sono di Livorno però ho un quarto di Sanque pugliese al quale tengo molto perché mia nonna era di Martina Franca e poi devo dire che comunque la mia formazione è stata molto importante averla fatta a Bari perché è una città che mi ha dato molto da questo punto di vista perché è particolarmente attenta alla moda, al fashion, al buon gusto, un po' come tutta la Puglia. Forse è un po' sottovalutata, la gente forse non lo sa ma invece è particolarmente una regione attenta a tutto ciò che viene dal di fuori e il meglio perché sono tutti dei grandi intenditori di questo. E questo però ci ha riconosciuto ultimamente anche a livello internazionale, il brand Puglia è diventato un marchio molto apprezzato nel mondo anche in vetta alle classifiche di riviste importanti nel settore turismo. La Puglia è tra le regioni più osannate ormai, ci siamo occupati nei giorni scorsi anche delle location per i matrimoni VIP e quindi la Puglia soprattutto in queste ultime stagioni è diventata veramente la più richiesta. E anche un concorso importante, veniamo dunque al tema di oggi, un concorso importante come The Look of the Year che ha dato la notorietà alle modelle di sempre più importanti come Naomi Cabello, Cindy Crawford, trova a Trani la sede del suo concorso nazionale. Diciamo che dobbiamo ringraziare Carmen Martorana che è una persona veramente eccezionale che ha voluto insistentemente che questo evento nazionale di cui lei è la responsabile fosse realizzato, avesse luogo in Puglia. Lei è pugliese tra l'altro. Sì, lei è pugliese di giovenazzo, sì sì sì, ed è una persona estremamente determinata, una grande professionista, una persona anche molto umile che insieme naturalmente a tutto lo staff della Carmen Martorana Eventi ha deciso di realizzare appunto questo evento a Trani in questa città meravigliosa che tutti conosciamo e diciamo l'evento durerà tre giorni praticamente. Il primo giorno ci sarà un evento a Palazzo Pugliese che è un palazzo storico, il giorno 21 con dei defilè, poi il giorno dopo sarà altri defilè con la giuria che intanto inizierà a stabilire quelle che potrebbero essere le eventuali vincitrici del concorso stesso che ripeto comunque non è un concorso di bellezza fine a se stesso ma è un master professionale per la moda, proprio per il fashion. Quindi diretto alla moda che è diciamo dal punto di vista qualitativo è estremamente selettivo perché ci sono delle modelle, si ricercano sempre nuovi volti con della personalità che abbiano delle caratteristiche ben precise. Definiamolo così in maniera un po' forse volgare, il materiale umano che lei si è trovato insomma ad analizzare, a selezionare è di livello? In Italia sì, abbiamo un certo livello alto anche perché c'è molto... Perché le modelle italiane più famose ormai sono attempate. Sono un po' attempate, in effetti sì. Diciamo che da questo concorso sono uscite delle top model internazionali eccezionali come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell e quindi si spera sempre di trovare dei volti nuovi. Ci sono delle basi sicuramente importanti, poi naturalmente poi col tempo se si ha l'occhio lungo nel riuscire a capire quella che potrebbe essere la modella più giusta, naturalmente staff di truccatori, parrucchieri, tutto il massimo di quello che può esserci, il top, rende il massimo anche dal punto di vista del fashion. Dunque l'appuntamento è a Trani per questa tre giorni dedicata al fashion, al glamour che è The Look of the Year Italia. Da qui usciranno le quattro ragazze che arrivano poi al concorso internazionale, giusto? Sì, sì, esatto. Dunque il giorno 23 al castello di Trani alle 19 inizierà questa manifestazione molto ricca, ci parteciperanno anche degli stilisti molto importanti, tra i quali anche Alberto Terranova che è stato il delfino del grande Fausto Sarli, del grande maestro Fausto Sarli. Dell'alta moda romana. Poi ci sarà un stilista pugliese, uno stilista di gioielli bravissimo che si chiama Mimmo Burdi e che ci stupirà con le sue meraviglie e in più ci sarà anche una stilista giovane, una nuova stilista creatrice che fra l'altro è anche un'attrice, lei recita, canta, insomma fa tante tante cose oltre a fare la stilista che si chiama Ivana Pantaleo e in tutto questo la madrina della serata sarà Maria Grazia Cucinotta. Che è diventata, possiamo definirla, la Sofia Loren di oggi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché porta i colori, la mediterraneità dell'essere italiana, dell'essere donna italiana, la femminilità italiana nel mondo. Assolutamente sì, anche per questo noi abbiamo chiesto a lei se voleva partecipare, anche perché è una figura di prestigio, è una figura tipicamente italiana e quindi noi vogliamo che l'Italia vada avanti e la Puglia in particolare. Dunque grazie Roberto Guarducci in bocca al lupo per questa avventura tranese che l'attende nel weekend e in bocca al lupo anche a The Look of the Year e grazie anche a Carmen Martorana per averci scelti anche per veicolare questa informazione. Grazie a voi. Noi chiudiamo invece Grazie a voi.